voglio pg arma pg arma ma magari io mi accontenterei anche tipo di fare una multi su questo banner e trovarlo easy va benissimo anche perché avevo deciso di costellarlo però poi sono un attimo tempo quindi mi basta la monocopia sia di pg che dell'arma possiamo fare diciamola la tradizione del canale fare cinque singolette e poi andare di molti andiamo così ok prima singoletta signori 321 via perché le cinque singolette in realtà cioè sono da ponte alla prima multi quindi in realtà non io non mi aspetto niente in queste cinque singolette però capito faranno la base del nostro sculo dopo andiamo all'ultima singoletta e poi iniziamo con le multi o questa carta ci dice come andrà a finire la multi dopo sono io a fine a fine mod challenge non raggiungi volo via pt 15 andiamo ecco eccoci signori ufficialmente abbiamo iniziato con la mod challenge e con la prima multi vediamo se ci sono due quattro stelle qua dentro ok o arma nuova 7 marzo non male al moddio se esce anche team 1 siamo postissimi cioè 24 stelle predictati e per ora le abbiamo cioè ok 24 stelle predictati ed è andata benissimo spero tantissimo in altri 24 stelle oh ti chiudono grande te la sei proprio chiamata grande bene bene anche vorrei e sei anche perché così la flex avvise vero è bene oh ma questa è la multi che hai chiamato prima è la multi che ti sei chiamato prima 456 un po to match vediamo intanto di prendere qualche quattro stelle che ci interessa ok niente oggi è la tua giornata oggi è la giornata di 7 marzo ma che ho quasi maxata un'altra copia l'ho maxata esattamente la portiamo ai 6 ora c'è la seconda copia ti immagini guarda stanno uscendo le carte a coppia no mannaggia però erano uscite queste qua a coppia questa poi a coppia ho detto l'ultima se è lei sbanchiamo speriamo anche di non fare qualche cosplay mamma mia intanto devo dire che abbiamo preso tutti i quattro stelle per adesso però march 7 ci sta dando dentro noi vorremmo qualche copia di ting yun in realtà oh arma è quella che è uscita prima praticamente va bene va bene va bene bene uguale oh su shang su shang vabbè su shang ce l'hai e adesso è 3 se non erro no qua 4 ma ce l'ho già 2 ah ok è uscita 2 volte oh però da notare altri 2 4 stelle nella stessa multi e beh da 65 ancora ancora magari escono una marea di quattro stelle oppure questa è la fine di jorge vola oh su shang numero uno no no vedi vedi hai chiamato il volato è uscita su shang c'è il pollo beh lei è piena di uccellini comunque via si ma ho 7 marzo è finito di esistere ma non fammi la cosa là al massimo ma infatti 7 marzo nooo una sola 77 ah siamo a 77 è vero mettila 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 subito vai 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 sto male mi sa che il corno George l'ha preso da un'altra parte gianni ma c'è proprio lui ti dovevi sentire stasera ma perché è entrato ba ma è colpa tua oddio sto male ma poi ma io so che è forte l'ho provato Io non ce la faccio a guardarlo Mi sento male Ed esce appena tiriamo Cioè nel senso che adesso abbiamo tirato la multi E poi esce È giusto È giusto Tutta l'or Tutta l'or Ok Parita nel boy Dai non può esserci soltanto su Shang Comunque Deve esserci qualcun altro Scusate ma chi è questo? Tu? Ma è bellissimo O che compare nel trailer Non mi ricordo che trailer Però è uno dei primi trailer Oppure Cinque stelle Oddio George George può essere Aspetta Vai Guarda Guarda Non mi ricordo Che torna Che torna Che torna Ah Ah Bene Bene Ma è finita? Non è finita Eh no Non è finita Abiti 32 è uscito Che 32 mi sa che l'ha pure Quando ho trovato i me C1 Figurati Andiamo avanti? Andiamo Andiamo Asta Ti serviva? Beh Tu Serve sempre Ma però sono Una sprovvista Eh beh Effettivamente No Non ha pt22 scordi Questo è il 30 Sì Questo è 32 Ah no 22 è vero 22 Eh no È vero Perché dobbiamo andare a 32 Quindi questo è 22 Grazie Scorpio Ci ricordo Meno male Che Scorpio Signori Pronostico Up Vinceremo il 50 e 50 Dell'arma Chiaramente sappiamo Che le percentuali Dell'arma Non sono un 50 e 50 Ma lo useremo Come titolo Del pronostico Così Scorpio Non impazzisce Qui Così non abbiamo più dubbi Ne abbiamo tutte Guarda Sto cuocendo Arlan Arlan È pure nuovo Vai 2-4 stelle Oh La prima arma in rate up Ce l'abbiamo Forza Ma prima abbiamo trovato Un Arlan Completamente a caso Adesso Natascha Completamente a caso Natascha Di va bene Di va bene Sì E tre E tre Buono Su su Signori Goofy in chat Oh ha laggato Eh Eh buono O ti escono 4 4 stelle Oppure Ha laggato inutilmente Signori Goofy in chat Ma la connessione Eh può essere L'alluvione Con aiuto Stacca stacca A Nadia Eccoci C'è il 4 stelle Secondo te L'arma di Daneng Ecco perché ha laggato Perché è nuova L'arma di Daneng Io uso Daneng Non lo usi No no uso Ah ok Sei pronto George PT 65 Posso vedere Quella carta Uscire adesso Esatto Vamonos Vai Con convinzione Spam Di Goofy Spam Di Goofy Serve Grinta Serve Tutto Tutto lo sculo Allora Qui dentro Vogliamo almeno 2 4 stelle Base Voglio l'arma di 7 marzo Almeno la runca Ecco C'ho sia il PG che l'arma Esatto Tutto runcappato Che abbiamo Ok Ok Mi stiamo più girando Eccola Perfetta Andata 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 Vabbè Multi delle armi E allora questa qua C'è per forza Ma mi sa che l'ho maxata Quella là Mi sa di se Eh pure secondo me L'hai maxata Sì Però dopo vediamo Dai Ci abbiamo reso conto Piti 75 Che ansia Oddio George Eccolo Vai Bellissimo 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 E' uscito E' uscito Sei contento George Ce l'abbiamo fatta Finalmente E ti sono pure avanzate 5 singolette Pensa un po' Ok Signor George Abbiamo L'arma E abbiamo Zijuan Cioè E' una marea pure Di costellazioni varie Guardalo